Buonasera a tutti che sono Ascoltatori Meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Andiamo ad analizzare le previsioni meteo per i prossimi giorni. Invito anche ad andare sul nostro canale Facebook dove non porterete altri aggiornamenti. Andiamo subito a vedere la situazione, se le staranno andando a formare nei prossimi giorni un minimo depressionario abbastanza forte tra la Francia e il Nord Africa. Questo si andrà a spostare sotto al sud della Sardegna, quindi influenzerà buona parte della settimana e anche della prossima il tempo per tutta la nostra penisola. Infatti anche da come possiamo vedere c'è rischio di forti piogge su tutta la Sardegna e anche sul Lazio. Andiamo a vedere subito le previsioni, poi per i prossimi giorni possiamo proprio vedere questo minimo depressionario che si stanno a spostare verso il Nord Africa portando instabilità su tutta la nostra penisola. Con esso ci saranno anche neve a quote abbastanza basse, soprattutto sulle Alpi ma anche sull'Appennino. Come possiamo vedere potrete anche notare delle piogge molto abbondanti sulle nostre due isole maggiori. Possiamo notare anche forti piogge sulla Calabria e sulla Campania e si andranno a spostare sempre di più anche sulla parte adriatica. Le zone più colpite ovviamente saranno il lato tirrenico ma anche sul Mar Ionio e sull'Adriatico ci saranno piogge abbastanza intense. Questo è tutto, un caro struttura al vostro Maggio Italia, io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di essere un bel like e attiva la campanellina, non perdevi nessunissimo aggiornamento.